Quello che farò oggi su Yoke Watch dovevo farlo un po' di tempo fa ma la squadra era un po' quello che era e quindi ho deciso di rimandare Ma oggi ho deciso di dire basta e andrò a sfidare un paio di nemici forti Ma prima devo trovare un portale che mi faccia accedere a queste lotte e ce l'abbiamo proprio qua dietro Bene, vediamo un po' che cosa possiamo fare Attraversiamo il portale ovviamente possiamo scegliere una chiave, abbiamo la chiave di Enma Demone Abbiamo due chiavi divine, chiavi per i portali che percepiscono le forme God Side Quindi andrò prima un attimino a sfidare qualche Yokai God Side tipo Tengu, tipo Re Tengu oppure Signor K e anche Sovranian E a quanto pare andiamo direttamente in una lotta? Ah, che bello, sì, abbiamo proprio questi Yokai Quanto saranno forti mi domando Non molto Non proprio per niente Vabbè, un po' una delusione Però se vogliamo reclutarli possiamo farlo E le chiavi per le forme God Side si comprano dalla sala slot da volendo colpina E... Finisce così Ok, veloce veloce, la rifaccio perché è durata 30 secondi Probabilmente ne ho preso neanche uno ma va bene Cos'era quello? Un colpo critico tipo? Però avvicinati Niente, ancora nessuno Beh, questi qui probabilmente avranno un drop rate dell'anima molto più alto rispetto a quelli normali O molto più basso, se vogliamo Comunque, ne avevo due di chiavi Pensavo ci sarebbe stato tipo da gironzolare in giro come per le altre ma a quanto pare no Direi quindi di andare a provare Emma Demone Quindi magari questa anche sarà una lotta Cioè ci butta direttamente nella lotta immagino Ma Emma Demone deve essere più forte Almeno a livello 50-60 Perché se no non ha senso Ed è solo lui in effetti Cavoli Questo reclutarlo mi sa che sarà un po' difficile No, è debole anche lui Però questo ci dà modo di Provare a combatterlo più e più volte E niente A meno che Lui non è uno di quei yokai che ha un drop casuale E quindi ti diventa amico o non ti diventa amico Non per forza ti dà l'anima Ok, forse come ho detto Ma direi di andare a comprare magari qualche altra chiave E vederle un po' tutte insomma Alla fine E anche questo è il bello Perché ce ne sono altri Io pensavo di metterci molto più tempo Invece no, è stata una cosa super veloce Quindi è bene comprare qualche altra chiave E sfidare anche le altre forme Riaffrontiamo un'altra volta un po' sto emma demone E ste forme god side Per capire qual è il drop Se droppano l'anima O se possono diventare amici in maniera casuale Un po' come su yokai watch 2 e 3 Anche se Dovremmo trovare penso gli oggetti per loro Perché Felinian ha l'oggetto che lo fa diventare sopra E ne hanno lo specchio Quindi magari anche per loro deve esserci un oggetto Che magari droppano per loro Niente quindi 4 su 4 Niente Andiamo a fare un altro paio di volte amma demone E poi vediamo anche le altre chiavi Secondo me potrebbe uscirci qualcosa di interessante Lama danzante? Ok Interessante questo oggetto ora Coppio di spade Un tempo avevano una forma di Madonna 115 Devo solo riuscire a droppare però Lo yokai Anche se penso che si possano reclutare nel blaster Può essere Ma quanto è bello Ma che gli vuoi dire? Ah è un boss lui! Ah ma allora Alla grande Alla grande Kato Bene Ma vai Forte Ok è forte Ok Quindi gli yokai di questo Di queste chiavi sono forti È una semplice lotta al boss Semplice tra virgolette Però Oh Funziona Accidenti Funziona Bellissima Abil guerriero Mi serve il tuo aiuto Bastava salire Sì Ora Grande Non ti preoccupare Quindi irà bene Più irà Bene Grande Come farò tenere la spada Bella Mi è piaciuta sta lotta Proverò Proverò anche il nuovo potere di Akala Dovevo dare la corda a Cole Cosa che dovevo fare prima Facciamo un po' Asura Non so se riesco a farla in questa lotta Ma penso di sì Vediamo il nuovo Energy Max Di Cole Vai Pensavi Non scappare Vieni qua Io mi lamento in Blasters Che ci prendo sempre Ma Ma per ovvi motivi Qua non mi lamento Qua ci vado io contro un nemico In Blasters Perché punta proprio solo a me Non punta mai gli altri Eccolo Bene Non gli ha fatto Allora L'Energy Max è una pippa A quanto pare Ma quanto fa male No Zunna ragazzo No fallo 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 No Perché Hai sprecato Ma non serve L'aiuto di Velenotto No Che secciatura Vabbè Un pochetto fatto Dai Oh E dai Che succede Chi è qua Dai la vita Oh ma è possibile Ogni volta che tocco Asura Vi paralizzo Oh Allora E che succede Ah Pensavo fosse morto Perché andava nell'esplosione Prima di completare Gli ultimi tre Yokai Andiamo un po' a fare Qualche chiave fortunata Ne ho due Vediamo dove ci portano Oggi insomma È il video delle chiavi Che potrebbe essere Frainteso One chance Eh sì Perché one in giapponese Significa bow E one chance Alla fine Bisognerebbe Farmare Su yokai watch Blasters Ok Questo è diverso Oh Tato Eh Shikshou Ma ho capito Dice che lo sto trattando Come un perdente Però Che male c'è Ad essere un cane Però tutti quanti Conosciamo la sua storia Che è diventato uno yokai Dopo aver perso il lavoro Ad essersi ubriacato Ad essere morto Bene bene Ora tocca a Baihu Ha ha Ok Eh Quello sì L'ho messo come leader Proprio per provare prima Il potere di Akala Quello nuovo Dove era scomparso Bravo Wai E' pericoloso Benché Forse non l'ho preso Ok Più esperienza Vai Aspetta che arrivo Somma Che dolore Sì vabbè Però stava in aria Guarda ti faccio Del male Così Che dolore Che dolore Che fa Fudo mio Akala Nuovo Con la spada Con la spada Che cos'è Oh Me lo punti Per favore Grazie Ok Sì Vero in ombra Fatto il suo lavoro Bravo Vero in ombra Anni tanto C'è zecchi Complimenti Più punti Esperienza a fine lotta Nessun oggetto A quanto pare Oh Guanti Vai Grande Vai Questo è buono Questo è molto buono Più 85 di difesa Più 34 di potenza Wow Mancano Shuan Wu E Zuke Facciamo Shuan Wu Bello Mi piace molto St'episodio Sì Anche più di quelli Della storia Per qualche ragione Vai piena forte Lui Beh un po' Sì è difeso Dall'attacco Wow Serpentello Cacciato Hai capito Serpentello Buono Cioè Shuan Doji Non sta facendo nulla Giusto per farvelo presente Dai ti ho messo Anche un oggetto Più forte Sia in difesa Che in attacco Fatti valere Preso Bene Abbi il guerriero Anche sta quasi carico Con l'energy Max Bene Possiamo essere da meno Perché in aiuto Jack In aiuto di chi In aiuto di chi Scusami Boy zio Boy Bene Più esperienza Ottimo Mai preso Perché stava facendo L'attacco Anche lui E quindi ce lo siamo Bruciato Va bene Va bene Si è fatto male Da solo Qual è il senso Di quell'attacco Se ti fa male Da solo Cioè Fai tipo Una cosa Kamikaze Tipo E bene L'ultimo portale Per oggi Allora Speriamo che ci troppi qualcosa Questo di Zuke Chissà Magari una spada Un suo indumento Ok Ci siamo Oramai Atala Atala Così è Un masto Ora Buono Onda 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 Yokai Ok Ti fa un po' Di Spall Ah Potevo Anche l'onda Polminante Ma non ho mai giocato Buo cavoli Male Stai tirando Stai tirando Fa male davvero Pensavi che non ti vedessi Se ci siamo Un po' Ricaricati Con un max Dove è Dove è Dove è Energy Globo Preso Più soldi Vabbè Vieni qua Vieni qua Dove sei? Qua arrivo Arrivo Guarda un po' Guarda un po' Ma non avevo punti Non avevo abbastanza punti Che cavolo Ok Qua Quando è che si alza lui in volo Quando io faccio l'attacco Beh è normale Direi che è un classico E quanti attacchi c'hai Una volta sola Dov'è? Ah ok Aspetta che arrivo Aspetta Poco Però ce l'ho preso Stavolta L'ho preso però Le mogli facciamo male Bravo anche Per in ombra Sto cercando di dirti bravo Eh le hai preso Però Bella eh Belle Stelotte Mi sono piaciute Tutte quante Ah Bambola d'oro Però come abbiamo visto Insomma Ti danno oggetti rari Ti danno dei buoni drop Non prendi lo yokai Ma prendi il drop Che non è male Io ho un altro giro da shien E me lo farei Da emma demone Va bene Però per reclutare Emma demone Devo comprare La sua arma Che costa 45.000 sfere Oni E beh Farmiamo Che costa Che costa Che costa Che costa